Prima delle domande aggiungo un altro elemento, tornando al tema della Libia, noi stiamo organizzando con Fratelli d'Italia e ovviamente l'invito all'adesione a Matteo, soprattutto alla Lega e agli altri che fossero d'accordo con noi, noi riteniamo anche di fronte alla inconcludenza del governo Renzi, mentre il governo Renzi cercava semplicemente di mettere d'accordo tutti i suoi ministri con il Presidente del Consiglio, l'Egitto aveva già bombardato la Libia e aveva già ottenuto quella riunione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU che il governo italiano continuava a chiedere senza ottenerla. Noi riteniamo che in Libia si debba intervenire, riteniamo che si debba intervenire con una missione sulle coste della Libia che bisogna occupare i porti e eventualmente affrontare a monte il problema dell'immigrazione, aprire lì centri di accoglienza e valutare chi ha la possibilità e effettivamente i requisiti per avere diritto d'asilo e chi non ce l'ha, perché? Perché se oggi l'Isis controlla le coste della Libia significa che l'Isis sa decidere chi viene decapitato sulle coste della Libia e chi invece può partire verso l'Italia e noi non possiamo consentire a dei terroristi di fare la selezione all'ingresso dell'Italia, quindi chiediamo lo stop dei barconi e dei clandestini fino a quando non avremo sconfitto l'Isis perché altrimenti stiamo esponendo il popolo italiano a una eccessiva insicurezza. Per dire tutto questo stiamo organizzando delle fiaccolate su tutto il territorio nazionale da venerdì a domenica, partiamo venerdì alle 19 al Pantheon qui a Roma, finiamo domenica a Milano alle 18, se ti viene più comodo, a Piazza San Babila e su tutto il territorio nazionale poi vi daremo i vari appuntamenti.